Ciao a tutti voi da Rosi e benvenuti a questo nuovo appuntamento dalla nostra vetrina dell'auto in compagnia di Ceriani, accanto a me Boriana, bellissima come sempre. Grazie, ciao Rosi, buonasera a tutti i telespettatori. Ci troviamo attualmente nella nostra sede a Legnano in via Saronnese 143, angolo via Picasso 3. Siamo nel salone Volvo a presentarvi anche e accennarvi che abbiamo da farvi vedere e provare la novità di Volvo che è la EX30, come anche tutto il resto della gamma di modelli Volvo. Siamo anche concessionari Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, sia qua a Legnano che nella sede di Buster Sizio in via Pirandello 14 e ci trovate anche a Parabiago in via Spagliardi 2. In tutte e tre le sedi trovate anche i marchi che presentiamo oltre appunto Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo e Volvo che sono Peugeot, Citroën, che siamo appunto di riferimento e anche il marchio Spoticar, quindi tutte le vetture d'occasione aziendali chilometro zero. Ora passo invece la parola a Luca che vi parlerà della nostra grandissima novità che abbiamo da presentarvi. Buonasera a tutti, ringrazio Boriana per la parola e ne approfitto anch'io per salutare Rosy. Ciao Rosy, sono molto contento di vederti oggi perché appunto come diceva Boriana, come anticipato da lei, abbiamo una grandissima novità da comunicare a chi ci segue e ai nostri ascoltatori. Gruppo Ceriani è ufficialmente concessionario Mitsubishi e KGM Sanyong, quindi ampliamo la nostra gamma di prodotti, già molto ampia e variegata, con due marchi molto significativi, storici, di riferimento nel loro settore, Mitsubishi e KGM. KGM è la vecchia Sanyong, KGM Mobility, prodotti che si sono fatti conoscere per la loro affidabilità e versatilità e per questo motivo siamo molto orgogliosi e felici di diventare concessionario ufficiale per questi due fantastici brand. Sì, anche perché ci sono grandi novità in tutte e due i brand, perciò adesso andremo a vederli insieme a te, quindi tenete conto come punto di riferimento per la vostra prossima Mitsubishi oppure KGM o Sanyong, chiamatela come volete, naturalmente qui da Ceriani. Assolutamente sì, come ricordato da Boriana ci troviamo a Legnano in via Saronnese al numero 143, trovate sia il nostro salone dedicato alle vetture nuove che anche il nostro service ufficiale. Eccoci qui di fianco al nuovo prodotto di casa Mitsubishi, la nuova Mitsubishi Colt, modello veramente molto bello dal punto di vista estetico, molto versatile, di pochissimo oltre i 4 metri, 5 porte, 5 posti comodi, una vettura guidabile anche da neopatentati con la motorizzazione 1000 da 65 cavalli, si passa poi a un 1000 da 90 cavalli turbo con il cambio manuale 6 marce e c'è anche la possibilità di avere la motorizzazione full hybrid che diventa un 1600 4 cilindri da 145 cavalli, una motorizzazione veramente performante sul modello dove si ha la possibilità di sfruttare la parte elettrica fino all'80% nel ciclo urbano. La vettura a partire dal suo allestimento Invite che è l'allestimento di partenza si presenta ricca dal punto di vista degli optional e un plus non indifferente e molto importante oggi come oggi, Mitsubishi su tutti i suoi modelli offre 5 anni di garanzia sul 100% della vettura, 100.000 km e 5 anni di assistenza stradale inclusa non solo per i guasti ma anche in caso incidente e perdita delle chiavi, quindi sono due servizi molto e molto importanti che aiutano a sfruttare al meglio quella che è la parte della vettura. Vi ricordo che tutte le vetture che vi verranno presentate oggi sono disponibili in pronta consegna, quindi vetture disponibili all'uso, tutte le formule di acquisto sono personalizzabili, quindi venite a trovarci, ci sediamo, ne parliamo, le vostre esigenze sono le nostre esigenze, quindi massima disponibilità da parte nostra a costruirvi un'offerta che può essere 100% vantaggiosa dal punto di vista dell'acquisto. Altra nuova arrivata in casa Mitsubishi, parliamo di Mitsubishi ASX, prodotto di assoluto valore e affidabilità, anche in questo caso parliamo di 5 anni di garanzia, 5 anni di assistenza stradale inclusa, una vettura che si presenta molto versatile anche dal punto di vista di scelta della motorizzazione, perché abbiamo vetture solamente a benzina, vetture con mild hybrid, vetture full hybrid, fino ad arrivare anche al plug-in hybrid, quindi massima disponibilità dal punto di vista delle motorizzazioni, aderenti a tutti i tipi di clienti, quindi in base al vostro utilizzo potete cucirvi su misura la motorizzazione che preferite. Anche in questo caso abbiamo 4 livelli di allestimento, tutti molto ricchi dal punto di vista degli accessori, ed è una vettura che parte dai soli 22.500 euro, anche in questo caso abbiamo motorizzazioni adatte a neopatentati. Parliamo sempre di vetture disponibili in pronta consegna, quindi qui da scoprire, provare, accomodarvi, e dal punto di vista dell'acquisto sempre massima disponibilità nostra a cucirvi una proposta su misura per voi. Passiamo ora a KGM Sangyong, siamo di fianco alla nuova Nata, modello Torres, modello di punta del marchio KGM, una vettura che si presenta molto bene dal punto di vista estetico, un design molto accattivante, è una vettura dalle dimensioni notevoli, siamo intorno ai 4,70 metri di lunghezza, una vettura che offre tanta capacità di carico per chi ne ha bisogno e tanta abitabilità interna, quindi una vettura che va molto bene per le famiglie, che vogliono fare anche gite fuori porta, perché abbiamo sia la trazione anteriore che la trazione integrale, è disponibile con cambio manuale e con cambio automatico, e anche per chi per lavoro ha necessità di caricare attrezzatura o altri elementi, abbiamo la possibilità di avere un bagagliaio veramente molto capiente. In questo caso a livello di motorizzazione abbiamo 1.5 benzina da 163 cavalli, che come dicevamo in precedenza si può avere sia col cambio manuale che con il cambio automatico, ed è una vettura che può essere adattata anche a GPL, quindi KGM offre la possibilità di adattare tutte le sue vetture con impianto GPL, e questo mese c'è una promozione molto interessante per chi usufruirà appunto dell'impianto GPL. Altro modello KGM Sanghiong, parliamo in questo caso di Tivoli, modello molto compatto ma dà una grande abitabilità interna, disponibile nella motorizzazione benzina da 135 cavalli con il cambio manuale, anche in questo caso c'è la possibilità di andare a installare quello che è l'impianto GPL per renderla appunto b-fuel. Altra nota assolutamente fantastica, anche per i marchi KGM Sanghiong, abbiamo la possibilità di offrire 5 anni di garanzia, quindi anche le vetture di KGM sono garantite 5 anni fino a 100.000 km al 100% e vi è 5 anni di assistenza stradale inclusa per tutti i clienti di KGM. La vettura si presenta anche in questo caso molto bene, molto ricca dal punto di vista degli accessori, tutto quello che serve per essere utilizzata al meglio la vettura lo ha già di serie, parliamo di sensori, telecamera al posteriore, integrazione Apple CarPlay Android Auto per lo smartphone, climatizzatore automatico, addirittura i sedili anteriori, il volante riscaldabile, quindi un'altra vettura da venire a scoprire qui nella nostra sede di Legnano, da provare e da toccare con mano. Parliamo ora di Corando, KGM Corando, quindi un modello che si presenta a metà tra Tivoli e Torres che abbiamo visto in precedenza, modello molto molto versatile, perché anche in questo caso abbiamo motorizzazioni sia benzina che diesel, molto importante per chi fa tanti chilometri, anche in questo caso c'è la possibilità di andare a installare quello che è l'impianto GPL, la vettura ha tre allestimenti che si possono andare a selezionare in base alle esigenze, ma come per gli altri modelli nasce già molto ricca di serie, quindi una vettura che si presenta con tutto quello che si può desiderare all'interno della vettura, cerchi, lega, sensori, telecamere, nell'allestimento più ricco anche all'interno con la pelle totale, le regolazioni elettriche con le memorie del sedile lato guida, una vettura che offre tanta abitabilità, tanta versatilità e tanta affidabilità con i 5 anni di garanzia KGM. Oltre all'area che abbiamo appena visto dedicata al nuovo, vorrei anche ricordarvi tutte le nostre proposte dedicate alle vetture in occasione, abbiamo disponibilità di moltissime vetture in pronta consegna dei nostri brand di riferimento, quali Fiat, Lancia, Peugeot, abbiamo vetture disponibili appunto in pronta consegna con garanzia ufficiale, tagliando completo fatto da noi prima della consegna, disponibilità anche in questo caso di tassi personalizzati per l'acquisto delle vetture, disponibili, non c'è nessun obbligo ma venite a trovarci, vi faremo un'offerta che veramente sarà da prendere in considerazione. Abbiamo vetture appunto disponibili per qualsiasi tipo di esigenza, parliamo di vetture che possono essere city car, parliamo di vetture adatte anche a famiglie, con disponibilità di segmenti SUV, segmenti station wagon, disponibilità anche di brand che non sono dei nostri marchi di riferimento, ma sono vetture ritirate in permuta, assolutamente garantite, con chilometraggio certificato, di anche marchi importanti, quali possono essere BMW, Volkswagen e Audi, quindi ne abbiamo per tutti i gusti, tutte le nostre offerte sono ovviamente visibili sul nostro sito, ve lo ricordo, gruppoceriani.it, vastissima scelta, ve lo ricordo ancora perché è molto importante, dal punto di vista di vetture aziendali chilometro e zero, sui modelli 500, Lancia Ypsilon e Fiat Panda, sia nella versione normale che anche in versione cross, ne abbiamo veramente diverse, molti colori, chilometraggi veramente bassi e sono disponibili appunto da vedere, provare e disponibili in pronta consegna qui da noi, sia nella nostra sede di Legnano di via Saronnese al numero 143, sia nella nostra sede di Busto Arsizio in viale Pierandello al numero 14, che anche nella nostra sede di Parabiago in via Spagliardi al numero 2. Vi farei vedere però alcuni esempi della vettura che abbiamo a disposizione qui nella nostra sede di Legnano, in modo a farvele appunto vedere in anteprima, prima poi di andare sul nostro sito per eventualmente anche prenotare un appuntamento personalizzabile e un test drive dedicato. Qui abbiamo per esempio una bellissima BMW X3 nella motorizzazione diesel con cambio automatico, due ruote motrici, vettura unico proprietario del 2019, si presenta veramente in condizioni impeccabili, la vettura al chilometraggio certificato viene garantita a 12 mesi e viene data appunto col tagliando già eseguito prima della consegna, è una vettura che proponiamo a 29.800 euro, passaggio di proprietà escluso, disponibilità di offerte dedicate all'acquisto di finanziamento appunto personalizzate. Quella che avete visto era solo un esempio, ma come vedete sono circondato da fantastiche vetture, in occasione disponibili in pronta consegna, venite a trovarci, venite a scoprirle e venite a provarle, siamo disponibili a qualsiasi esigenza. Bene, avete visto quante novità da Gruppo Ceriani nelle nostre tre sedi, ricordo anche che trovate tutti i nostri annunci, quindi vetture d'occasione, aziendali, chilometro zero, anche nuove, sul sito www.gruppoceriani.it e anche nella nostra pagina Autoscout24. Bene, a questo punto non ci resta che invitarvi a venire qui personalmente per trovare la vostra occasione, quindi un grazie a Luca che si è unito a noi e un grazie a te Buriana. Grazie a voi, grazie a te. Ciao a tutti. Grazie a tutti.